Sono dovuti intervenire i carabinieri per impedire che Giuseppe Accorinti portasse a spalla il quadro della Madonna della Neve in una giornata che sembrava dovesse svolgersi all'insegna della religiosità popolare. L'episodio ha messo in subuglio una parte della manifestazione religiosa dopo che i carabinieri hanno condotto in caserma i componenti del comitato festa per avere ragguagli sul fatto accaduto. Nel frattempo il presunto boss Accorinti si era dileguato tra la folla. Il vescovo di Mileto ha parlato di episodio increscioso che non avrebbe dovuto verificarsi ma intanto rimane l'interrogativo circa la libertà d'azione di Accorinti di essere pronto a portare a spalla il quadro della Madonna. D'altra parte lo stesso vescovo Monsignor Renzo nel 2015 aveva emanato un nuovo regolamento per quanto riguarda la scelta e la selezione dunque dei portantini. Un fenomeno questo che nelle feste patronali della nostra Calabria avrebbe bisogno di controlli e selezioni più severe e che invece rimane ancora a pannaggio di puntuali questioni gravi come è accaduto a Zungri.